Ho presentato una interrogazione al Sindaco Basile al fine di verificare e ottenere tutta la documentazione relativa alla corretta esecuzione dei lavori di rifacimento del manto stadale di via Adolfo Celi. In particolare ho anche allegato delle immagini, risulta da diverse segnalazioni come un tratto di strada non asfaltato soltanto qualche settimana fa sia già in condizioni disastrose, con grave danno e pericolo per tutti i fruitori della strada, che siano ciclisti, che siano pedoni, che siano automobilisti o motociclisti. Ho voluto ricordare all'amministrazione che alla luce anche della più recente giurisprudenza in materia, l'ente, in quanto custode del bene, potrebbe essere responsabile in caso di eventuali sinistri. Pertanto bisogna vigilare, bisogna verificare se i soldi pubblici che l'amministrazione ha stanziato per il rifacimento dei manti statali siano stati spesi correttamente e soprattutto come mai dopo così poco tempo il manto stadale è già a pezzi ed è già combinato davvero male.